sono entrati nelle vostre case vi hanno tenuto con il fiato sospeso vi hanno coinvolto con la loro umanità sono uomini e donne speciali il crimine non si è fermato nemmeno loro e tornano in prima linea con nuove indagini nuove storie e nuove emozioni la squadra i nuovi episodi da venerdì ore 20 e 50 su Rai 3 combattono il crimine con coraggio ma per alcuni di loro la battaglia più dura è la loro vita privata la lotta da sola non ci permetterà mai di smantellare il clave storie ricche e sfaccettate senti papà io e Miriam ci siamo separati indagini sorprendenti per la squadra venerdì 20 e 50 Rai 3 la lotta al crimine si fa sempre più dura per i duri della squadra il senso di giustizia deve prevalere in ognuno di noi noi ti insegneremo a resistere infiltrato è qualcos'altro che trimanderà la tua vita precedente vicende personali che ancora bruciano intercettazioni e allora quando facciamo? subito certe cose non le posso tenere vanno via subito pedinamenti tutti pronti ci siamo operazioni ad alto rischio per la squadra venerdì 20 e 50 Rai 3 chi ha ucciso Miriana? la sposina era incinta Miriana aveva deciso di sposare mio figlio solo per stare accanto a me dietro e dentro la menzogna lei era una delle più disponibili la squadra amori che vanno pensavo di amarti ma non è così è finita passioni che continuano lei è una collaboratrice di giustizia la squadra venerdì 20 e 50 Rai 3 storie che attraversano molte frontiere per gli uomini e le donne della squadra e abbiamo tre giorni per trovare una corsa estrema per fermare un torturatore psicopatico fai il tuo lavoro, la tua vita disperazione per la mancanza di lavoro abbricalari, aprono vuotata la tragedia io non ho ucciso nessuno passaggi di grandissimo respiro per la squadra venerdì 20 e 50 Rai 3 partare un prodigio per la squadra e per la squadra per la squadra